buongiorno buongiorno salve a tutti qui adesso ci cambiamo un letto come senti insomma qui c'è un nuovo arrivato ma ciao non vuoi un po' un po' oh questo è un po' un po' un po' è sempre stato attaccato a polo Oh, ho, 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 ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 brava. Berla. Ora è la cosa? Ciao Grazie 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 Grazie. 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 Molto, molto. Saluta bene domani. Adesso scende la nonna a salutarti e bene. Mi senti? Mi senti? Stefano? Stefano? Mi senti? Che c'è? Adesso. Mi senti? Mi senti? C'è questo? Mi senti? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info